7 marzo degno sei o Signore Dio nostro di ricevere la gloria e l'onore e la potenza poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create apocalisse 4 11 la sorgente dell'universo la bibbia dichiara che tutte le cose sono state create per volontà di Dio e così anche l'esistenza dell'uomo niente può avere vita in cielo e sulla terra se non per il volere di Dio c'è soltanto una sorgente di vita nell'universo Dio onnipotente e per la sua volontà che siamo in vita non proveniamo dal caso ma siamo qui per un preciso piano divino noi tutti abbiamo anche un destino glorioso in Cristo Gesù l'Apostolo Paolo riconosceva che per quanto riguardava la vita il creato ed ogni altra cosa dipendeva era sostenuta e regolata dalla volontà di Dio difatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo atti 17 28 escludendo Dio dalla propria vita inevitabilmente si va verso la distruzione eterna tu dove pensi di andare se nel tuo cuore non hai creduto nell'esistenza di Dio e nel donatore della vita Dio 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 Grazie a tutti.